Vota sì! Vota sì! Un flash mob per ricordare di votare sì al referendum abrogativo sulle trivelle. Si parla di imporre un limite temporale alle concessioni delle piattaforme entro le 12 miglia. A questo saranno chiamati al voto i cittadini il prossimo 17 aprile, a scendere in piazza Pescara, Lega Ambiente, WWF e anche i rappresentanti della Croazia venuti a smentire notizie false proprio sul caso petrolio. Quello che noi continuiamo a dire è scegliete il futuro. Scegliete il futuro che è fatto anche di nuovo lavoro, ma è un lavoro pulito, trasparente, in cui l'interesse collettivo è garantito. Basta con le trivellazioni, con le estrazioni di gas e petrolio, stiamo parlando di pochissime quantità che assolutamente non incidono né sulla nostra qualità di vita né sull'economia del paese. Si tratta invece di puntare sul solare, sull'eolico per creare nuovo lavoro. È proprio di questi momenti la notizia che anche la Francia rinuncerà alle trivellazioni dopo la Croazia. Governo Renzi, portaci nel futuro, basta con i fossili. E allora quali sono i messaggi degli ambientalisti per i cittadini? Invitiamo a votare sì perché si tratta di ristabilire in maniera chiara che le concessioni per le trivelle a mare entro le 12 miglia devono avere una data di scadenza, non possono essere senza fine e poi perché bisogna fare un primo passo fondamentale verso il rispetto di quegli accordi che abbiamo preso a Parigi come Italia insieme ad altri 180 paesi. La Croazia oggi viene a manifestare a Pescara per esprimere quello che forse in qualche modo vuole essere ancora di più sottolineato. Siamo oggi qui le associazioni ambientaliste che vengono da tutti i paesi, dunque dai cinque paesi che si affacciano sull'Adriatico per dare un sopporto alla battaglia dei cittadini italiani contro le trivelle. Ci siamo accorti che c'è in corso una campagna di bugie incredibili per quanto riguarda la situazione in Croazia, tipo che la Croazia ha delle trivelle, dei progetti in corso e le uniche trivelle che ci sono sono quelle nel nord Adriatico, ci sono 19 per l'estrazione del gas di proprietà della Eni.